È morto Luigi Pasinetti, professore emerito dell'Università Cattolica, aveva 92 anni, economista, fu esponente di spicco del moderno approccio classico e post-keinesiano all'economia politica, ma anche componente di diverse accademie scientifiche, tra cui l'Accademia Nazionale dei Lincei, la Fondazione Mattioli di Milano e la Fondazione Naudi di Torino. Sentiamo il ricordo dell'economista Emiliano Brancaccio. Luigi Pasinetti, originalissimo interprete della cosiddetta rivoluzione keynesiana, è stato uno dei più rigorosi critici della teoria e della politica economica dominante di stampo neoclassico. Pasinetti fu tra i primissimi economisti ad argomentare che i famigerati parametri di Maastricht, fondativi dell'Unione Monetaria Europea, erano soltanto un mito, una vera e propria follia. Così Pasinetti si espresse, una follia che ha costretto i popoli europei agli enormi sacrifici dell'austerity e che tuttavia non ha affatto contribuito al risanamento dei conti pubblici. Pasinetti è stato anche un severo critico delle cosiddette riforme universitarie di questi anni, che hanno fortemente compromesso, tra l'altro, anche la libertà della ricerca scientifica. Egli arrivò a definire scandaloso un sistema di selezione che costringe i giovani ricercatori al conformismo e quindi impedisce il dibattito e blocca il progresso scientifico in campo economico e non soltanto. Con Luigi Pasinetti ci lascia uno degli ultimi grandi maestri della teoria economica del Novecento. La sua è l'eredità di una teoria dall'enorme potenziale euristico, raffinatissima nella sua pura astrattezza eppure, proprio per questo, assolutamente calata nel reale. Le 12 e 46 minuti il giorno...